ciao allora che cosa stiamo orchestrando niente di particolare solo una riflessione andando a suonare il rule 5 sia in battere che in levare andando a fare questa cosa in due misure quindi 1 2 3 4 quando torniamo dopo le due misure sulla prima al loop troviamo per riallacciarci un rullo a 9 quindi se voi sentite bene si sente questi 9 colpi che tornano e ricadono poi sul levare della seconda croma della prima misura quindi attenzione qua 2 3 4 benissimo ho provato anche così giusto per studiare qualcosa per tenere un po' allenata la mente a mettere tutto questo su un pattern molto semplice di 4 quarti oppure provare ad orchestrare la stessa cosa e comunque ci aiuta a riflettere e ci aiuta a non fermarci mai a studiare sempre sono cose molto semplici ma molto efficaci grazie a tutti 3 4 1 2 3 4 e poi si può orchestrare comunque come si vuole quindi buon studio a tutti e alla prossima ciao ciao